E' online il numero 2 della rivista giuridica Il Piemonte delle Autonomie, promossa dal Consiglio regionale e curata dalla Direzione Processo Legislativo con la collaborazione di illustri docenti universitari. Come riporta l'editoriale di Sergio Roda, con il nuovo numero della pubblicazione prende avvio una serie di contributi incentrati sull'evoluzione amministrativa del Piemonte, seguendo nello sviluppo storico fino ai giorni nostri.